Dopo aver vinto un concorso radiofonico alla fine degli anni 50 entra a far parte del gruppo cabarettistico musicale torinese dei Brutos, con cui ottiene un grande successo internazionale esibendosi tra l'altro trionfalmente all'Olimpia di Parigi. A metà degli anni 60 esce dal gruppo e ne fonda uno simile, conosciuto come Los Tontos, con cui si esibirà per sei anni di fila all'Emporium di Barcellona. Accompagna nelle tournee di Londra e Parigi. Ancora all'Olimpia, Saccia Distel, che conia per lui il soprannome di Aldo Laclasse. Nel 1970 Claude Lelac, che conosceva Macione dai tempi dei Brutos avendolo diretto in alcuni scopitoni, lo fa esordire al cinema da solista con il film Voyeux. E lo richiama nel 1972 in L'avventura e l'avventura dove è uno dei quattro protagonisti al fianco. Di Lino Ventura, Charles Denner e Jacques Brel. L'anno dopo rientra, dopo i poco fortunati film dei Brutos, nel cinema italiano con due film legati al personaggio del colonnello Buttiglione. Tra gli anni 70 e i primi 80 Macione si divide equamente tra cinema italiano e francese, prediligendo in entrambi i casi ruoli brillanti. In Italia la popolarità maggiore arriverà grazie ad alcuni film interpretati in coppia con Renato, Pozzetto, Due Cuori, Una Cappella, Sono Fotogenico, Fico d'India, Porca Vacca, e ad alcune commedie scolacciate. In Francia grazie ai film interpretati al fianco di Pierre Richard, Sono timido, Ma lei mi cura, Cest Pas moi, Cest lui, e al ruolo di Sergio Campanese nel film L'animale. Con gli anni 80 l'attività di Macione si concentra sempre più in Francia, e questi sono gli anni della sua definitiva consacrazione nei botteghini d'Oltralpe come protagonista assoluto in modeste commedie, spesso dirette da Philippe Clare e per lo più inedite in Italia, dove perfeziona il suo personaggio di Aldo la classe. Già celebrato nel 1972 anche in una omonima canzone dello stesso Macione. Tipica caricatura del seduttore italiano smargiasso e un po' guascone. Dotato di una parlata inconfondibile e di un modo di camminare caratteristico. La Marche du seductor. Il successo è tale che vengono distribuiti anche alcuni vecchi film italiani dove l'attore torinese ha solo ruoli di supporto e che vengono spacciati come i nuovi film di Macione. Alla fine degli anni 80, in seguito a un paio di cocenti insuccessi, abbandona questo personaggio per provare a spaziare in ruoli diversi. Tra il 1991 e il 1995 interpreta quattro film per la tv nella serie Aldo Tussra e Isquez. Nel 1994 torna dopo 12 anni a recitare in un film italiano. Interpretando un laido impresario in Perdiamoci di vista di Carlo Verdone. Nel 1997 lavora con Bigas Luna per l'immagine del desiderio e nel 2002 è un padrino per Aldo. Giovanni and Giacomo. La leggenda di Aul, John e Zach, torna a recitare in una produzione interamente francese dopo più di tre illustri nel 2005. Nel film lavori in casa Travo. Tra il 29 gennaio e il 5 febbraio 2010 ha preso parte al reality show La Ferme Celebrities. Let, la fattoria dei famosi, da cui si è ritirato per problemi di salute. Nel novembre 2010 ha ricevuto il Career Award 2010 al Monte Carlo Film Festival. L'attore compare, ritratto nella sua tipica camminata, come guest star nel 29esimo albo della serie Asterix, La Rosa e il Gladio. La Rose e le Glaive. 1991, nei panni di un legionario romano che vorrebbe prestare servizio in una legione di donne. Attualmente risiede a St. Paul Devins.